Il Comitato Operativo della Polizia Municipale Il nostro intento è di arrivare a un protocollo di intesa firmato da tutti i sindaci in maniera tale da istituzionalizzare il Comitato Operativo Provinciale. Questo è il primo passo e il convegno di oggi è una delle altre finalità, cioè quello di fare formazione. Perché ai nostri livelli, alle livelli della Polizia Municipale, la formazione è fondamentale ai fini di una buona attività. La provincia di Lecce è stata suddivisa in 13 distretti, ognuno con un suo referente e quanto prima sarà stilato un apposito protocollo di intesa. L'associazione è stata presentata ufficialmente durante un convegno a cui hanno preso parte fra gli altri il prefetto di Lecce, Giuliana Perrotta, ed il sindaco Paolo Perrone.